Il cinema è impegnato per il sociale. Dal 18 giugno torna il festival Tulipani di Seta Nera. Sentiamo Adele Ammendola. Ha sempre tenuto i riflettori accesi su chi è discriminato, è considerato diverso o chi è addirittura invisibile per la società. Il festival internazionale del film corto Tulipani di Seta Nera torna quest'anno con una motivazione in più. Il distanziamento sociale che oggi viviamo tutti lo stanno subendo dapprima le persone stereotipali diverse, quelle escluse. Sono questi i racconti del festival internazionale del film corto Tulipani di Seta Nera. Sei bello. Grazie. Giunto alla tredicesima edizione il festival si svolgerà in streaming dal 18 al 22 giugno. La premiazione andrà in onda sul Rai Cinema Channel e sul Rai Play. 12 cortometraggi in gara. I temi vanno dalla violenza di genere al bullismo, dall'Alzheimer alla xenofobia con un unico obiettivo valorizzare la diversità. Una manifestazione che punta a promuovere il lavoro dei giovani autori ma anche a mostrare un segnale di vitalità da parte di un settore, quello dell'audiovisivo, messo in ginocchio dalla pandemia.